L'eresia. Ecclesia quattuor ebet evangelia. A eresis plurima. Quando Origine registrava questo dato statistico in una delle sue innumerevoli omelie, il terzo secolo d.C. era cominciato da un pezzo e il canone neotestamentario, pur senza ratifiche dell'autorità, nelle grandi linee era praticamente già stabilito. Il cristianesimo, volto a divenire al pari dell'ebraismo una religione del libro, era impegnato a trovare il fondamento essenziale della sua tradizione nell'autenticità della testimonianza del Cristo. Il lungo travaglio di auto-identificazione delle prime generazioni cristiane era stato vissuto in termini prima fideistici che dottrinari. Come ogni Chiesa, anche quella cristiana, si apprestava a nascere innanzitutto come patrimonio di fede, alla cui origine sta la testimonianza. Che cos'è dunque l'eresia? Nella sua prima radice, essa è in autenticità della testimonianza del messaggio rivelato. Sono molti, dice cominciando l'evangelista Luca, coloro che si sono messi a raccontare ciò che è avvenuto tra noi e si sono fatti ministri della parola. Paradossalmente, la prima difesa dell'eresia, anche per il fedele del sovrannaturale, è una difesa della storia. Un ritorno al documento autentico. Il testimone è un critico che fonda la verità sul reale. Molto opportunamente in questa raccolta si distinguono gli apocrifi della protoletteratura cristiana da quelli della letteratura greco-romana di professione cristiana. L'interesse dei laici va soprattutto ai primi i quali nascono insieme ai Vangeli canonici nel vivo magma di un diffuso e appassionato bisogno testimoniale, in una contesa che in termini elementari si svolge come processo di legittimità ereditaria dal Cristo e in un'area culturale sostanzialmente pre-paolina. Nel concetto e nell'esperienza contemporanea di eresia, l'accento batte oggi piuttosto sull'interpretazione, sulla deformazione ideologica di una realtà data per accettabile. L'eserissia si riconosce nel suo significato moderno, soprattutto in rapporto a una dottrina istituita, a una chiesa. Tende a passare sempre più dal terreno dello spirito al terreno dell'organizzazione. Agli albori del cristianesimo, al contrario, la coscienza organizzativa a caratteri deboli e primitivi. Nei Vangeli non c'è chiesa, ma la vita di una comunità percorsa e sconvolta dall'annuncio. Non c'è dottrina, ma regola esistenziale. Non c'è neppure in forma diretta un'etica, ma un'escatologia. A suo tempo abbiamo imparato dal Bonaiuti che il cristianesimo delle origini non è una filosofia, è una consegna religiosa, un movimento sostanzialmente mistico e apocalittico, un messaggio di salvezza, una consegna di conversione, un precetto di trasmutazione di valori. Verbum autem deideus inanerabile. Quot enim stelle tot verba dei sunt, dice un apocrifo dell'infanzia, esprimendo con candido stupore di fede la sottomissione assoluta del credente al suo ineffabile Dio. La pienezza della rivelazione soffoca per un lungo periodo ogni possibilità di ermeneutica. In questa luce la lettura dei più antichi apocrifi è appassionante. La proliferazione dei Vangeli nasce dal bisogno di consolidare e radicare una tradizione, non solo di partecipare la verità, ma di istituire una comunione tra i credenti sul fondamento della testimonianza a Cristo. La Chiesa nasce spontaneamente attorno a una promessa, nel nome ingenuo e solenne di una parola. Assistiamo nei primi secoli cristiani a un lavoro minuto e grandioso di fondazione di un linguaggio, al costruirsi di una credenza che rinnova alla radice i valori della vita. C'è una sorta di emozionante impatto tra rivelazione e storia, tra l'antica profezia e la verifica del presente, tra l'annuncio e la realtà. Non importa, o importa sino a un certo punto, se nella coscienza dei cristiani primitivi dominava il sentimento della parousia, se cioè al centro del messaggio si avvertiva il prossimo ritorno trionfale del Messia e la fine del tempo. A poco a poco viene in primo piano l'etzousia, la potenza del Cristo Signore, non soltanto nella vita. della vita nella morte, ma della vita nella vita. In Palestina era avvenuto l'incontro di Dio con l'uomo, e fruttificava miracolosamente nella dimensione del tempo. Canonici o apocrifi, in tutti i Vangeli circola, irresistibile la viva memoria della buona novella. Il lettore contemporaneo non può sottrarsi alla suggestione del divampare di un sentimento del miracolo, che diventa misura della storia, e instaura una cultura fondata sulla salvezza. Sui documenti di tale periodo, la filologia storicistica ha svolto un lavoro colossale, specie nel secolo scorso, la materia biblica fu il campo privilegiato di un'orgia di critica storica, a cui poco poté contrapporre il puntiglio ecclesiastico. Ma neanche la coscienza religiosa è rimasta immobile. E come essa stessa sempre meglio distingue il prezioso lavoro critico-testuale dalla ricerca scientifica, dalle pompose esercitazioni degli avvocati positivisti, così oggi cristiani e laici sarebbero meno disposti di un tempo a fronteggiarsi sui criteri dei recipientis et non recipientis scripturis, come suona il cosiddetto detto di Gallesio. Nei riguardi dei libri del Vecchio Testamento, l'attribuzione di apocrifo varia ancora a seconda che ad applicarla siano cattolici, protestanti o ebrei. Ma la tolleranza ecumenica tende oggi, se non a comporre, perlomeno a svelenire le divergenze. Soprattutto un più maturo e direi vissuto sentimento storico ci dispone a una considerazione meno frammentaria delle posizioni teologiche. I problemi della nuova teologia cristiana sono sostanzialmente unitari e quanto ai laici l'epoca di trasformazione violenta e di sincretismo in cui siamo capitati a vivere ci porta a una naturale simpatia con i secoli protocristiani. Nel 70 d.C. la Palestina fu invasa a ferro e fuoco dalle legioni romane, Gerusalemme fu distrutta con il suo Tempio, la Giudea divenne terra di occupazione. Nel giro di poco più che una generazione, dunque, il piccolo mondo che aveva ospitato Gesù Cristo precipita nel passato. Da ciò possono derivare due conseguenze in apparente contrasto. Da un lato ne è favorito l'impulso alla leggenda, ai miti della memoria, dall'altro lato ne viene acuito il senso di responsabilità. Squissitamente cristiano, il legame di testimonianza personale e salvifico con il Cristo, il quale, come scritto, rinnegherà quelli che l'hanno rinnegato e confesserà davanti agli angeli di Dio quelli che lo hanno riconosciuto. Ecco dunque la tradizione cristiana evangelica comprendere, in una strettissima unità e secondo un istinto naturalmente popolare, il cronista e il testimone, il racconto e la professione di fede. Sarebbe toccato soltanto alla posterità via via che si organizzava in chiesa distinguere tra i testi ispirati e quelli ex legge e costruire su quella distinzione gli spalti impenetrabili dell'ortodossia. Ma ormai non occorre più lasciare ai liberi pensatori il riconoscimento che l'area originaria del movimento testimoniale era molto più vasta spontanea di quella codificata nel canone. Anche là dove l'elemento ingenuamente fantastico prevale sul momento religioso della fede, della fedeltà alla parola del Cristo negli antichi apocrifi più ingenuamente narrativi e fantastici, al nostro orecchio di oggi è difficile cogliere l'eresia se non come infedeltà spirituale, nel senso cioè di una distorsionata soggettivazione dell'esperienza del sacro, di una riduzione anedotica della sequenza profetica. C'è poi un secondo elemento che viene a interferire nella predicazione cristiana dei primi secoli, un elemento culturalmente più complesso e incisivo. A ondate successive, la primitiva materia evangelica è sottoporsa a diverse influenze ideologico-filosofiche. Nel fertile e mobilissimo universo giudeo-elenistico-mediterraneo. Soprattutto l'agnosi, intimamente spiritualista secondo l'ispirazione iranico-greca, opera un tentativo di radicale ribaltamento della storicità in senso escatologico e messianico, del messaggio ebraico-cristiano e della via salvifica in esso segnata, vedendo nel mondo come, contrapposto al mondo ideale e onico, fuori dal tempo, a livello delle emanazioni, parvenza, fantasma, errore della creazione, male. Ma, in generale, senza entrare in un esame critico qui fuori luogo, è da dire che la lunga vicenda dell'assimilazione del messaggio cristiano da parte della cultura greco-latina, il confrontarsi, il distinguersi, il resistere, lo scendere a patti, il convergere da valori spiritualistici post-stoici del mondo classico in relazione al rozzo ma splendente fanatismo popolare che arrivava impetuoso da quella povera periferia dell'impero, è un capitolo tra i più straordinari della storia umana. E ovviamente supera di troppo i miei limiti, nonché quelli della materia di questo argomento. Infatti sto per arrivare al termine di questo podcast. Non solo, ma ciò che ne scaturisce, da questa analisi, come conseguenza immediata, la interminabile disputa teologica sul rapporto tra originario messaggio evangelico e formulazione del dogma è una di quelle questioni che investono in pieno i paradigmi e lo stesso modello di sviluppo della civiltà e i suoi nodi essenziali, libertà, progresso, autorità, disegni della storia. E' una questione che non avrà mai fine, innovandosi in forme sempre nuove ad ogni nuova occasione di conflitto tra ispirazione rivoluzionaria e istituzioni. Al nostro modesto scopo basterà qui osservare che a questo punto, mentre il messaggio cristiano perde a poco a poco l'ardore messianico e si articola da annuncio prossimo del regno in dottrina per l'uomo storico, a questo punto davvero le eresie pullulano, si frastagliano, si avvicendano. Eresie in senso moderno, come interpretazioni allegorie che pretendono al privilegio della verità e si inarcano in sette gruppi, scuole, apocalittici, ebioniti, diocesi, diocettisti, manichei, encratici, gnostici, marcionisti. E adesso finisce questo podcast, forse ne farò un altro. Se avrò abbastanza pubblico. Vi ringrazio di aver seguito questa sintesi e alla prossima. mettete like e commentate se volete che ne faccia un altro.